Oggi parleremo di alimentazione e integrazione nello sport, vediamo di che cosa si tratta esattamente, qual è la differenza tra dire alimentazione o integrazione, sentiamo cosa mi ha risposto il dottor Marco Favarone. L'integrazione è una parte fondamentale dell'alimentazione, io sono costretto ad integrare se mi mancano alcuni nutrienti, se alcuni nutrienti non sono sufficienti, il bambino che non mi mangia frutta e verdura, devo dargli delle vitamine, perché la dieta, la sua alimentazione è povera di alcuni nutrienti, quindi la dieta mediterranea, quando sento la gente dice ma io seguo già la dieta mediterranea, non è niente vero, perché la maggior parte delle persone segue la dieta mediterranea per una questione genetica, cioè se io sono nato in Italia, che sono sul Mediterraneo, per definizione seguo la dieta mediterranea, ma non è niente vero, perché quando uno fa la dieta va a controllare esattamente quello che mangia, quando uno invece mi fa la dieta mediterranea sembra che per scienza infusa lui sa cosa deve prendere, non è vero, la dieta mediterranea è un equilibrio di nutrienti che dovrei controllare, se io mangio solo patatine fritte e hamburger, non sto seguendo una dieta mediterranea, cioè la dieta mediterranea è una dieta molto ricca di vegetali, frutta, verdura, di olio quindi buono, di olio extravergine d'oliva, quindi sono dei grassi, ma sono dei grassi buoni, il fatto che ci sono anche frutta secca, c'è tutto un equilibrio di nutrienti e spesso le persone non sanno che invece pensano che visto che abitiamo nel nostro caso in Italia, in Grecia, in Spagna, allora noi seguiamo la dieta mediterranea perché siamo nati lì, non è niente vero, perché ci potrebbe essere un americano che segue una dieta mediterranea molto più rigorosa, essendo negli Stati Uniti, che non in italiano che magari segue una dieta poco mediterranea rispetto a un abitante di un altro paese, che non è sul mediterraneo. E quindi quali integratori ci potrebbero venire in aiuto in questi casi? Allora, ok, prima di tutto parliamo di oligoelementi, quindi vitamine e oligoelementi che sono fondamentali perché ci servono e poi possono essere invece nutrienti importanti come possono essere le proteine, i carboidrati, cioè se io ho una dieta sbilanciata in quello che può essere l'apporto di carboidrati e proteine, chiaramente io devo stare assolutamente, devo cercare di integrare e quindi di aggiungere i nutrienti che mi possono mancare. Una cosa di questo tipo quindi posso raggiungere solo con l'integratore, che per definizione cos'è l'integratore? È il fatto che è un nutriente presente in quantità normalmente variabile nell'alimento che io isolo e posso avere l'apporto di solo quel nutriente. Quindi è purificato, ha dei dosaggi molto più alti e per cui posso usare anche dosaggi più bassi, basta che non siano alimenti tipo proteine, carboidrati e grassi, però se io devo prendere delle vitamine chiaramente uso dosaggi molto più bassi. Cioè per avere la vitamina C, per avere un grammo di vitamina C, quante arance devo mangiare? Tantissime, rispetto al fatto che invece io mi mangio un grammo di vitamina C, di acido ascorbico e c'ho già come avessi mangiato, non so, dieci arance. Hai capito? Quindi sono riuscito a avere quel nutriente che mi serviva. Se a me serve la creatina, dovrei mangiare per avere la dose efficace di creatina un chilo di carne, ma a me serve solo la creatina, non voglio i grassi o le proteine della carne. Mi serve la creatina, per cui prendo la creatina che mi serve per la mia attività fisica, in questo caso puoi aumentare la capacità di un'attività fisica di un certo tipo intensa e ripetuta, breve, intensa e ripetuta. Quindi questa è la differenza. Quindi io sapendo di cosa ho bisogno, se so che mi viene a mancare qualcosa nell'ambito della mia alimentazione, integro e non ho nessun problema a farlo e non ho nessun problema, a suggerirlo anche a un anziano, a un bambino o un atleta e queste sono le tre categorie che possono avere più bisogno di integrare, perché il bambino è in crescita, l'anziano per problemi di catabolismo, lo sportivo perché ha un'attività molto più intensa fisica. Ecco, come abbiamo visto la differenza tra alimentazione e integrazione sta soltanto nel fatto che tramite l'integrazione riusciamo a prendere i nutrienti che non siamo riusciti a prendere tramite l'alimentazione. Spero che vi sia chiara l'idea di integrazione e di integratori. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di mettere un bel like e ci vediamo presto con un nuovo video.